Adesso è pronta anche la compagine di governo. A due settimane di distanza dall'accorpamento della Camera di Commercio Brindisi Taranto e dalla nomina del Presidente Vincenzo Cesario, è stata eletta la Giunta Camerale, organo esecutivo dell'ENTE, alla presenza del Presidente di Union Camere, Andrea Prete. Ne fanno parte Domenico D'Amico per l'artigianato, Salvatore Toma per trasporti e spedizioni, Alfonso Cavallo per l'agricoltura, Franco Gentile per l'artigianato, Leonardo Giangrande per il commercio, Matilde Contento per il al commercio, Gabriele Menotti Lippolis per l'industria, Cinque Tarantini e Due Brindisini, Gentile e Menotti. Hanno partecipato alla giornata anche la Presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, la Presidente della Camera di Commercio di Bari e di Union Camere Puglia, Luciana Di Bisceglie e la Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci. I numeri ci dicono che abbiamo avuto un risparmio nelle camere che si sono già accorpate del 16% sul costo del personale, del 32% sul costo di funzionamento, quindi mettersi insieme ne vale la pena e sicuramente sarà questa una camera di successo come lo sono le altre che ormai si sono consolidate nell'accorpamento. È una giunta di grandissima qualità, rappresentanti del mondo delle associazioni molto accorsati, molto preparati, una bellissima giunta, così come è bellissimo il consiglio che è stato eletto, per cui abbiamo veramente grande entusiasmo e grande necessità e volontà di cominciare a lavorare quanto prima e con molta vemenza e con molta velocità.